lari sai che giorno è oggi il primo dicembre esatto quindi mancano quanti giorni a natale 24 o si non vedo l'ora di ricevere i miei regali non riceverà nessuno come no perché si è stata cattiva tutto l'anno ma non è vero si il carbone ti metti tieni carbone ma che no ma che cattivo ma tienitelo te ma no perché è il mio regalo per te quest'anno no no ma dovrai fare uno più bello è va bene però prima di fare il regalo ti sfido a fare la miglior costruzione natalizia e chi sarà il vincitore riceverà il regalo più bello ovvero uno stack di carbone sì bello bello allora cosa in mente di costruire io pensavo all'albero di natale ok sì buona fortuna e io penso che invece costruirò proprio babbo natale wow allora diciamo ai nostri iscritti che ha vinto la la scorsa sfida allora è stata una sfida difficilissima e per questo infatti sono triste perché volevo vincere facilmente nooo e niente alla fine ho visto che ha vinto il sushi eh vabbè vabbè hai vinto il rollino ha vinto il rollino perché era carino da fuori era carino dentro quindi insomma ce l'hai fatta complimenti grazie e niente allora la mia pizza vi fa schifo ragazzi mi sa di sì mi fa schifo allora me ne guardo ciao no 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 che poi cado nel vuoto ecco esatto va bene dai allora io vado nel mio terreno ah anzi ti do anche il mio regalino ah sì già in anticipo io sono carina quindi ti do un biscotto grazie a forma di rena oh mio dio sì io sono io sono brava ok vado vado io sto facendo la prima fila di foglie Vlad wow questo è il tuo albero di natale bello mettici anche un po' di palline colorate no le palline ce le metto dopo ok ma cosa sono è pallina rosa carne non l'hai mai vista no ti giuro non ce l'ho io ma te invece cosa hai fatto del carbone hai fatto del carbone no sono le scarpe come sono le scarpe ma così grandi eh sì ma è babbo natale grande eh mica è piccolo e poi aspetta cosa le unghie ma no che schifo dai e le unghie ma vai via che non sai come è fatto babbo natale secondo te gli escono le unghie dalle scarpe ma infatti io non l'ho mai visto babbo natale ah no non l'ho mai beccato io lo conosco sì è tuo amico sì è mio amico no io io non l'ho mai visto però mi ha sempre portato regali eh si vede che era sempre di fretta o magari ti ha scambiato per qualcun altro per farti regali belli eh sì guarda che babbo natale non sbaglia l'indirizzo di casa mai mai non succede io vi avviso eh il mio albero è talmente grande oddio sì guarda mi nascondo ma è gigante non ne troverà mai nessuno qua no infatti non ti vedo no chissà è una decorazione natalizia questa che carina chissà se è fatta di cioccolato magari la posso mangiare provo a mangiare eh 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 togli togli i blocchi eh va bene diventerà abbastanza grande non so se forse dovrei rimpicciolirlo ma cos'è un rettangolo che qui è lunghissimo e poi è lungo ma sto uscendo fu... c'hai ragione eh 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 uffa mi odio ti tocca rifare ah io invece sto facendo alla panza di babbo natale eh ma è molto zizzone ovviamente tutti sappiamo che... esatto è molto zizzone quindi sarà una roba tipo così vedi di profondi larghezza sarà così tono ma cos'è la coda? no 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 è la circonferenza della pancia è una cosa babbo natale ecco quanto sarà grasso il mio babbo natale caspita wow che coda che ha ma dai ma vai via è un pikaccio rosso vai via che è un pikaccio rosso vai a fare il tuo albero ma mi hai messo di nuovo le unghie ma basta ma l'hai messo sopra no che schifo Vlad possiamo fare un nascondino qui possiamo fare un nascondino ma è un grattacielo è un grattacielo esatto guarda no ma è gigante è gigantesco mi nascondo qui comunque ti vedo ti vedo no non è vero eccoti però lari c'è una cosa molto molto importante che manca in questo albero il tronco lo so esatto su cosa si regge tutto questo cumulo di foglie è artificiale è artificiale perché non ci piacciono quelli naturali che bello lasciamoli in natura è moderno allora mi piace si vero e mancano tutte le lucine vabbè sei comunque più avanti di me che ho un babbo natale tagliato a metà oddio ma cos'ha qui nella manna un po' di sangue no è un sacchetto dovrebbe essere un sacchetto perché poi lo faccio così si vedi ok poi vabbè lo abbassa un pochino insomma faccio un sacchettino qui qualcosa che tenga in mano ah ho capito e si il sacchettino in cui ci sarà il tuo carbone lari ah che simpatico tanto a babbo natale piacerà di più il mio il mio albero di natale ma lo diremo a babbo natale quando arriverà qui dal cammino certo certo allora lasciami fare tutto e caspita ho da mettere tutte le lucine buona fortuna grazie sto facendo le decorazioni natalizie e devo dire che ho trovato un blocco super bello che è questo guarda vieni qui faccia vedere è questo è il muco che cola dai che che schifo ma quindi al muco con le lucine colore il bello è che si stanno pure colore va bene bellissimo no rimane così trattami di nome sulle unghie regalino di natale che schifo lari fai schifo quelle lucine alle scarpine ah si quelle le lucine alle scarpine sai quelle scarpine che si illuminano quando lui esce dal cammino non è che esce con le lucine sulle scarpe per farsi notare no da discoteca dai ma non smetti di rovinarmi tu cosa hai fatto qui hai messo i regali i regali che tu non avrai no son tre no mi si è sciolta la neve avevo messo dalla neve mi si è sciolta che sfiga neve unghie perché queste sono unghie le unghie di babbo natale ok esatto si è tagliato le unghie si 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 e mentre mangia latte e biscotti si taglia anche le unghie raga oh lari controllate bene quest'anno sotto l'albero ci saranno delle unghie cos'è sta roba cosa sono fiori oddio c'è un po' di tutto c'è un casino assurdo non si capisce niente c'è un po' di tutte queste cose che si mettono sulle porte lari non sono gli alberi di natale questo è un albero di natale mio ok va bene ecco pieno di unghie di babbo natale ok va bene allora se sono invidioso che a te non hai le unghie di babbo natale oh invidiosissimo hai ragione ecco vlad io ho finito la mia costruzione anche io oh il tuo babbo aspetta non ho finito adesso ho finito dai era bellissimo non è vero faceva schifo va bene dai allora da chi iniziamo dal mio ok si cioè che ci siamo qui sì 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 beh ovviamente babbo natale c'è un sacchettino per portare la roba è tipo della Supreme dai mamma Supreme va bene ci mancava la scritta qua sopra la cintura questo è tutto un raccolto di unghie che babbo natale si è tagliato fino a quando non è finito l'albero poi ci ho messo regalini e poi vieni perché siccome babbo natale era una casa questa è casa babbo natale entriamo dal sedere di babbo natale ecco dove tiene i regali babbo natale non li tiene nel sacco perci ed è dentro di lui sì e come vedi qui c'è la casettina con gli entri ghirlandri che bello dai bello bello poi si sale qui c'è una zona addormenta e qui c'è un piccolo parkour esatto bene bene dai carissimo mi piace mi piace bravo oppla oh beh adesso facci vedere il tuo cappolone ah qui tra l'altro hai fatto che tu hai un albero di natale è degno del mio vedo sì ma infatti più o meno sono simili vedi il mio è più carino ok allora il mio è super gigante l'ho super decorato non so manco io cosa abbia usato c'è un buco qui tappa eh sì era la finestra sai che poi puzza eh ma poi veniva freddo c'è ragione quanti regali ho messo le calze ho messo i regali ho messo le ghirlande un po' di luci c'è di tutto c'è di tutto assolutamente di tutto poi c'è la porticina qua dov'è? se mi segui eccola ding dong eh no un regalino mi ha bloccato la strada venga oh bravo chiudi la porta che bello e guarda qui c'è anche il calendario dell'avvento oh mio dio che biscottino sì è troppo bello vero? è troppo troppo bello e niente qui c'è il lettino e basta e basta però c'è è tutto sì 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 e devo dire niente che è stato super difficile perché non capivo manco io cosa stessi facendo con queste foglie però ragazzi spero che a voi piaccia come sempre dovrete votare voi dovrete scegliere tra albero di natale o babbo natale mi raccomando votate me perché voglio il nuovo vincere visto che avevo vinto anche con rollino e niente ragazzi vi ricordo anche di troppare un like e non ci vediamo in un prossimo video ciao